Contro la mafia bisogna essere uniti, non servono polemiche sterili. Giorgia Meloni di prima mattina è a Palermo nel 31esimo anniversario della strage che uccise Borsellino e la sua scorta. Un sacrificio che la spinza all'impegno in politica ricorda una data che rappresenta una ferita per chi crede nella legalità di cui l'impegno oggi del governo al fianco delle forze dell'ordine non solo memoria. L'incontro con il figlio di Borsellino Manfredi dal quale riceve un ritratto del giudice, poi la Premier presiede la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura cammino sempre a testa alta, sottolinea, lo Stato c'è. Non scappo mai, non sono mai scappata in tutta la mia vita, particolarmente non lo faccio quando si parla di mafia. Per cui sono qui oggi e sarò qui sempre quando c'è da combattere la mafia. Noi siamo convinti che la battaglia contro la mafia si possa vincere. Ci sono i fatti, sottolinea la Presidente del Consiglio, gli interventi sul caccio e ostativo, sulla criminalità organizzata, i 1.300 mafiosi arrestati, poi le opinioni che restano solo tali, anche sul concorso esterno, chiarisce solo parole, non c'è, non ci sarà alcun provvedimento su questo.